Che razza de Batošta, Batošta con l'H, che figura di merda e questa credo che sia la partita che condannerà Mourinho all'esonero. Ciao, bella a tutti da me, ovviamente non potevo non guardare questa partita perché a mio parere era comunque un big match storicamente parlando tra due delle squadre più forti di Premier League. Siamo tornati con questo nuovo video, il Liverpool sta battendo il Manchester United, mancano praticamente un paio di minuti e molto probabilmente appunto vincerà il Liverpool. Non credo che sul punteggio di 3-1 arriveranno due eredi del Manchester United o addirittura tre, anche perché sono stati surclassati nel gioco dalla squadra di Klopp. Mourinho è arrivato due volte in porta, o meglio due volte nello specchio della porta, il Liverpool ci è arrivato qualcosa come 13 o 14 volte. Ma in totale ci sono stati 34 o 35 tiri verso lo specchio della porta dello United. La differenza quest'anno è abissale, ma non a caso è abissale, proprio perché il Manchester United con questa vittoria si riporta primo in classifica. Me lo sono scritto a 45 punti, City che segue a ruota a 44, ma non è una novità il City, la novità è il Liverpool che quest'anno sta macinando veramente gioco. Tottenham terzo a 39, poi Chelsea a 37 quarto, quinto l'Arsenal che oggi ha perso 3 a 2 col Southampton e poi Manchester United ragazzi 26 punti. Cioè se non esonerano Mourinho adesso è anche vero, dici che cazzo vado a prendere in corso d'opera, non è mai facile cambiare. Ma secondo me questo potrebbe essere il colpo di grazia per il Manchester United, anche perché non ho capito l'esclusione da parte di Pogba. Non mi sembra fosse infortunato e quando non l'ho visto tra gli undici, nell'undici titolare ho detto Ma siccome sappiamo che tra Mourinho e Pogba non scorre buon sangue, io magari in mala fede, chi lo sa, ho pensato subito a male. Poi può essere pure che è infortunato e sta cosa mi è sfuggita. Ovviamente nel frattempo stavo anche guardando la partita del Napoli perché mi interessano di più le partite di Serie A. Le seguo con più hype, con più interesse, però questo era un big match e quindi ogni tanto giustamente giravo e stavo guardando anche questa. Che cosa ne pensate voi di questa asfaltata alla fine che il Liverpool ha fatto al Manchester United? United che storicamente parlando è una squadra che merita rispetto assolutamente, però secondo me la differenza tra le due formazioni attualmente, attenzione! Stava a fare 3-2, è abbastanza abissale a mio parere la differenza attualmente. Non lo dice solo la classifica, io lo vedo proprio a livello del gioco ragazzi. I fellani con i capelli in se può guardare rifatte quella fratta, quel cespo dell'umà che è in testa. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto. Ovviamente seguirò anche la partita del Napoli, visto che la fine della partita coincideva con la fine primo tempo del Napoli, ho deciso di fare anche questo post partita. Anche perché secondo me in settimana sentiremo ancora parlare di questo match e di Mourinho perché sono quasi sicuro che verrà cacciato. Secondo me sarà così, devono prendere provvedimenti perché fu così che Mourinho rimase altri 12 anni, però boh. Alla prossima con un nuovo video, ciao!